Abbiamo i due libri di Sam Miller. Sam Miller è un irriducibile irlandese che ha militato nelle file dell'Ira e per questa sua militanza ha passato otto anni nel carcere di Long Cash, il famigerato carcere dove stava Bobby Sainz, dove stava e dove è morto Bobby Sainz. Per otto anni lui è stato in questo carcere terrificante, quindi se vi state lamentando della vostra quarantena dorata leggete questo libro così imparerete a non lamentarvi ma a rilassarvi, a smorzare i ritmi. La seconda parte del libro lo vede spostarsi negli Stati Uniti dove ha organizzato e realizzato la più grande rapina del ventesimo secolo ma lo hanno beccato e lo hanno rificcato in galera. Quindi se volete sapere qualcosa sulla vera reclusione e sul riscatto questo è il libro. E questo è uno dei suoi romanzi della serie del detective Carl Cain. In questo periodo leggete e divertitevi e state a casa. Tanto i libri ve li portiamo noi.